Buongiorno da Laura Domenici e benvenuti a una nuova edizione del Fatto. Oggi parliamo di tour operating e di crisi. Il tour operating è in crisi di vendita. Si moltiplicano in piena stagione estiva le promozioni e slittano in avanti i tempi di validità degli incentivi. È il pacchetto tradizionale ad essere in crisi. Le agenzie infatti esplorano nuove strade nella proposizione del viaggio. Si afferma la pratica del dynamic packaging come dimostrano gli incrementi a doppia cifra nelle vendite dei network con le olta e con le piattaforme online che dispongono di una banca letti importante. Ora si tratta di capire se i tour operator classici riusciranno a fare un salto in avanti che tenga conto di questo progresso o se resteranno ancorati all'inflazionato pacchetto continuando a contare sull'erosione di quote ai competitor più che sull'avvento di nuova clientela. Per oggi è tutto. Grazie per averci seguito. Vi do appuntamento alla prossima edizione del Fatto. Grazie per averci seguito.